Buongiorno Davide. Ragazzi ma neanche le vecchie zie inglesi davanti al tenice riescono a discettare del tempo così. Buongiorno. Complimenti però che ci vuole classe. Riconoscilo. Riconoscilo. Permettetemi solo una parentesi personale un saluto alla mia figliuola che oggi è un piccolo interventino. Probabilmente all'ascolto mentre sono piccole cose della crescita. Allora Corriere della sera è sole 24 ore. Davide per cominciare leggiamo. Gli industriali incalzano Conte. Ieri l'assemblea generale di Confindustria a Roma. Bonomi chiede la revisione del reddito di cittadinanza. Sole 24 ore. Come dire in questo caso si gioca in casa. Bonomi coraggio e visione in un grande patto per l'Italia. Ma insomma sul reddito di cittadinanza ne abbiamo parlato per due giorni. Lo riconosce il presidente del consiglio e così com'è è solo una misura assistenziale ma Financo Di Maio riconosce che le riforme hanno bisogno di tanto in tanto di una messa a punto che è il massimo che può dire un esponente del partito che sul reddito di cittadinanza ha puntato tutto. Quindi quella roba lì in qualche modo sarà affrontata. Vi dico subito. Secondo me non sarà cambiata. La sostanza rimarrà quella ma continueremo a parlarne. Ieri il presidente di Confindustria Bonomi ha diciamo lanciato l'idea di un patto per l'Italia e quindi ha detto al governo ma insomma dobbiamo mettiamoci a lavorare assieme sull'uso dei fondi e degli ulteriori fondi europei perché è un'occasione irripetibile per l'Italia. Questa cosa che è un'occasione irripetibile ormai la ripetiamo talmente tante volte che comincia a stufare anche solo a sentirla. Ma il punto qual è? Perché poi alcuni ce lo fanno anche osservare. I piani per l'uso di quegli ulteriori fondi devono essere presentati entro il 15 di ottobre. Siccome come ricordava acutamente Giuliani questa mattina svegliandosi stiamo finendo settembre non siamo ancora in ritardo naturalmente essendo il 15 di ottobre. Questo mi pare anche questo nel mondo dell'ovvio. Il punto è che non c'è niente. Cioè le linee guida sono acqua fresca e tendenzialmente torbida. Cioè non dicono nulla di interessante. Gli industriali dicono ma perché non ci mettiamo attorno a un tavolo e facciamo un patto per l'Italia. Il periodo democratico dice al governo di cui fa parte ma quando è che arrivano i piani? Non è che devono arrivare il 15 di ottobre e uno se diciamo le butta giù il 14 di ottobre. Questo è il ritardo. Questa è la questione. Cioè di questo non si parla. Quindi varrebbe la pena parlarne. Una sola ulteriore osservazione tra le tante cose dette ieri da Bonomi. All'assemblea di Confindustria c'è anche che non vedo ripreso dai giornali. L'idea per i lavoratori dipendenti dice ma perché l'IRPEF non facciamo che se la pagano da soli? Nel senso che oggi il lavoratore dipendente ha un sostituto di imposta che è nel suo datore di lavoro che paga le imposte al suo posto. Non è che gliele paga. Cioè i soldi sono sempre del lavoratore. Non è che ce li mette l'impresa. Solo che il lavoratore non versa al fisco perché è il datore di lavoro che prima di dargli i soldi versa la parte che tocca al fisco. Sempre i soldi del lavoratore sono. Solo che questo modo di procedere finisce con rendere i lavoratori dipendenti meno sensibili a quanto costa il fisco. Cosa che invece una partita IVA lo sa benissimo perché? Perché prima è in cassa e poi deve fare il bonifico dal suo conto corrente verso il fisco. È giusto, è corretto. Sarebbe bene che tutti fossero consapevoli di quanto costa effettivamente il fisco perché così tutti cominceremo ad avere più chiaro che quello che si erargisce ad altri tocca pagarlo, tocca metterci i quattrini e non è poi così simpatico. Davide, pagina 8 del quotidiano Il Messaggero. Anche il PD è stufo di Tridico. Troppi infortuni del professore. È intervenuto Conte già l'altro ieri in cui diceva che non sapeva nulla dell'aumento di stipendio e poi dice urgono accertamenti e poi ha rincarato la dose dicendo adeguato il nuovo stipendio ma ci sono ancora tanti cittadini che ancora aspettano la cassa integrazione. Tridico lavori anche di notte per superare questo problema. Aggiungo che Tridico ha anche assunto una portavoce nelle ultime ore. A te. Sì, allora molto brevemente sulla questione di retribuzione. Abbiamo detto e ripetuto fin dal primo istante 62 mila euro per il Presidente Linps sono troppo pochi e quindi è giusto aumentare salvo il fatto che devi farlo in maniera trasparente ed è complicato farlo dopo essere arrivati lì dicendo che bisogna tagliarlo il monumento mentre gli italiani invece se lo vedono diminuire. Seconda questione a Palazzo Chigi girano perfettamente al corrente sia dell'aumento sia della retroattività come dimostrano i documenti di Palazzi firmati dal sottosegretario Fraccaro del Movimento 5 Stelle a Palazzo Chigi. Punto. Perché questo è veramente per stare l'acqua nel mortaio non c'è alcun senso. Il punto è che ieri il Presidente del Consiglio, intervenuto sempre all'Assemblea Generale di Confindustria, è stato sulla questione che sollevavamo ieri mattina circa i conti. Sta cassa integrazione è stata pagata, non è stata pagata, è vero, a parte qualche eccezione che ci può sempre essere, ma ci sono fasce scoperte. L'Inps nega. Il Presidente è così, ha detto sì, ma c'è tanta gente che non ha ancora avuto la cassa integrazione e ha aggiunto testualmente che sulla questione della cassa integrazione l'Inps lavori giorno e notte. Ma se il rimedio ai ritardi è lavorato giorno e notte è segno che i ritardi ci sono perché non si è lavorato abbastanza. Questa è la questione, non 62.000-150.000. Perché se c'è gente che non ha avuto quello cui ha diritto, e sono tanti, in ragione del fatto che l'Inps non ha lavorato abbastanza, diciamo che potenzialmente gliene diamo anche 300.000 di euro l'anno per lavorare, ma potenzialmente gli suggeriamo anche di cambiare mestiere. A un altro. 300.000 a un altro. Oppure se la responsabilità non è dell'Inps, che l'Inps richiama la responsabilità chi di doveva. Sono le parole del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio ha detto lavorate di più, quindi evidentemente pensa che sia lì il problema. Tra l'altro Davide in molti casi le hanno anticipate le aziende. Allora, quello dell'anticipazione delle aziende è un'altra questione, diciamo ancora, è un'infezione ulteriore, nel senso che in parte è stato chiesto alle aziende di anticipare. Le aziende che hanno cassa lo hanno fatto, lo hanno fatto per andare in conto ai lavoratori, ma non è che la restituzione avviene per cassa non appena ci sono i quattrini. Uno dice, vabbè scusami Pierluigi, non c'ho in quel momento, mi anticipi per favore che te li ridò. No, gli dici, allora Pierluigi, tu hai anticipato per me, la volta che mi dovrai dei quattrini, cioè... Eh no, perché a quel punto togli di cassa le aziende, questo è il momento di crisi, è l'ultimo delle cose che devi fare. Appunto. Ci segnali su Repubblica un titolo sulla prima legato a bollette di luce e gas, in realtà sono tratta anche da quello più grande graficamente sopra, questo quindi leggo entrambi, fisco addio alle aliquote, questo è il titolo più grande graficamente su Repubblica, a cui segue poi maxi aumenti per le bollette di luce più 15,6% e gas più 11,4%. Di che parliamo? Allora, della questione delle aliquote ne abbiamo parlato, ne continueremo a parlare perché tanto se cominciamo ad annunciarlo ogni giorno ci facciamo tutti quanti, prendiamo un master in fiscalità prima che sia approvato. La questione delle bollette viene, alcuni giornali diciamo riesumano il termine di stangata, perché in effetti la luce avrà un incremento del 15,6% mentre il gas dell'11,4%. Completezza dell'informazione però vuole che si ricordi che nel corso dei trimestri precedenti ci sono stati dei maxi ribassi, cioè alla fine della fiera nel 2020 la bolletta media costerà meno che nel 2019 perché adesso si registrano i maxi rialzi, ma perché 15,6% o maxi rialzo, ma nella stessa materia c'era stato un ribasso del 18,3% per esempio in un solo trimestre, quindi le cose vanno messe assieme. Certo, tutte le cose che devi pagare se non aumentano sei più contento. Andiamo sulle prime dei quotidiani sportivi. Oddio Davide, avremmo potuto scegliere qualsiasi quotidiano naturalmente politico. Allora, la Gazzetta dello Sport, la A va avanti, il calcio vuole continuare a giocare ma teme di scoprire altri positivi. Corriere dello Sport, Juve Napoli sul filo, Covid, oggi l'esito dei test sui giocatori azzurri che hanno affrontato il Genoa domenica. Genoa con 14 positivi in totale fra giocatori e staff. Match clou di domenica sera a rischio. Allora, sul calcio, appena si tocca il calcio, tutti, devo dire, sentono profumo di riflettori. Davide, hai notato ieri? È arrivato l'esperto che ha detto, ecco, i tamponi non servono a niente, il Genoa l'ha dimostrato. Calmi, possiamo appellarci. Infettivologo Bassetti, tra l'altro direttore dell'ospedale Genova, quello ha detto è stata la Waterloo dei tamponi. Ora, noi dobbiamo deciderci due cose. Intanto, quelli sono gli strumenti che abbiamo. Trovo che sia estremamente positivo, per esempio, leggere sui giornali oggi che i tamponi saranno fatti a tappeto nelle scuole. Sono giorni che lo ripetevamo, ma non perché fosse originale, ma perché se devi seguire una roba, riapri le scuole, che è un rischio. Lo sappiamo tutti che lì si corrono dei rischi, allora concentra anche l'attenzione su questo. Dici, ma non sono perfetti. Lo so. Guardate, lo sanno anche gli infermieri. Ho fatto quattro giorni fa il tampone e naturalmente anche per sdrammatizzare quando ti danno il risultato e vi dicono, venti minuti fa lei non aveva problemi. Nel senso che, se te lo dicono, è evidente che c'è questo aspetto. Però non è che abbiamo tante altre cose che posso fare leggere la mano. Il punto qual è? È che da una parte, io capisco per carità, i riflettori cambiano tutti. Anche questo microfono che ho davanti finisce in qualche modo cambiare il mio modo di esprimere, il microfono che avete voi e così via. Però, ecco, se fai l'infettivologo, soprattutto se rilasci l'intervista in camice bianco, cerca di avere un approccio meno ruvido alle cose. Di quello che pensi, ma non c'è bisogno, la lite fra infettivologi, la risa fra infettivologi, diciamoci la verità. E dall'altra parte, dobbiamo cambiare l'atteggiamento a noi. Non è che quando uno vede un camice bianco, con il microfono davanti, adesso ascolto la verità scientifica. No, perché se fosse così, allora saremmo già fondatori di una nuova religione denominata scientismo, che automaticamente, 15 secondi dopo essere fondata, avrebbe i suoi scissionisti, i suoi retici. Perché? Perché c'è qualcun altro che la pensa in modo diverso. Quindi, dobbiamo essere tutti un po'... Precauzioni, controllo. Dice, ma questo vale per risolvere in maniera assoluta il problema. Cioè, no, guardi, insomma, non esiste risoluzione assoluta di questo problema. Sembrerebbe poterlo essere, forza, speriamo, il vaccino, che al momento manco c'è. Quindi, cerchiamo di convivere anche con la ragionevolezza. Davide, in un minuto un commento a questa storia tremenda che arriva da Lecce. Ho ucciso Leonora e Daniele perché erano troppo felici. Questa è la spiegazione che avrebbe dato questo ragazzo che ha confessato, un ventunenne studente di infermieristica. I PM hanno detto azioni programmate realizzate senza pietà. Oggi, sul Corriere della Sera, lo psichiatra Claudio Mencacci fa una riflessione e dice che questo è il vereno dell'invidia che si amplifica via social, tant'è che lui ha detto, ha scritto sui suoi social, con la vendetta, ti senti soddisfatto. Ma sai, voglio dire, questa è un po' come la storia degli infettivologi perché ce ne sono diversi psichiatri che oggi analizzano e saranno tutte persone che non hanno mai incontrato il soggetto di cui parlano. Io anche questo, diciamo, in qualche modo mi lascia stupito. Capisco quelli che devono scrivere per il mestiere. Ma se fai lo psichiatra, come sta messo oggi Giacalone? Ma lo fate incontrare? E così, diciamo, non ci posso parlare. Vabbè, è questo Amen. Se fossi l'avvocato difensore, di questo signore, naturalmente invocherei l'infermità mentale. Se fossi il pubblico ministero, gli direi, no, guardi, ha programmato tutto, si è scritto come doveva farlo, ha evitato le telecamere, per cui mi pare perfettamente lucido. A congratulazioni, benvenuto in galera per il resto dei tuoi giorni. Davide Giacalone, grazie anche per oggi, torniamo puntualmente domani. Una curiosità, proprio al volo. Lui voleva parlare tanto, ma domani prendiamo un impegno del Nagorno-Carabacca. Adesso voi potete ridere, ma il tema è serio, anche perché lì c'è una guerra, quindi non c'è. Però domani, Nagorno-Carabacca, ne parliamo con Davide. Preparati Davide. Ci sono spazi importanti anche sui quotidiani. Infatti, ci mancherebbe. Ci torniamo, ci torniamo Davide, a domani. Buona legge a tutti.